Palla a volo nell'anticipo della dodicesima giornata della serie A1 femminile sconfitta casalinga per il Chieri che al palafenera perde 3 a 0 contro il Conegliano. Paola, Enogu e compagnie hanno superato le piemontesi 25 a 22, 25 a 22, 25 a 22. Per le Venete si avvicina il record mondiale, la striscia consecutiva di vittorie è arrivata a 71 partite di seguito. Per le Chieresi una sconfitta più che onorevole con una corazzata di quella potenza come testimoniato dai 22 punti realizzati in ogni set.